Diritto commerciale, video lezione numero 49. Il contratto estimatorio, la somministrazione e la concessione di vendita. In questa video lezione tratterò i seguenti argomenti riguardo il contratto estimatorio, nozione e carattere e la disciplina, riguardo la somministrazione e la concessione di vendita, nozione e natura giuridica, oggetto del contratto, la disciplina, patto di preferenza e il patto di esclusiva. Contratto estimatorio, nozione e carattere. L'articolo 1556 del codice civile stabilisce che nel contratto estimatorio una parte denominata tradens o affidante consegna una o più cose mobili all'altra detta acipiens o affidatario e questa si obbliga a pagarne il prezzo salvo che restituisca le cose nel termine stabilito. Quindi la cipiens, ovvero l'affidatario, in alternativa al pagamento del prezzo per i beni ricevuti in consegna, può restituirli entro un termine fissato dalle parti. Si ha pertanto nel concreto un affidamento di merce allo scopo di rivendere la stessa a terzi. Il contratto estimatorio, da molti denominato anche contratto in conto deposito o in sospeso, soddisfa soprattutto la posizione dell'acquirente rivenditore che non assume il rischio di dover pagare il prezzo di tutta la merce, atteso che ha la facoltà di restituire l'invenduto. Il vantaggio del venditore invece è dato dalla possibilità di piazzare la merce su vasta scala senza necessità di reperire personalmente i singoli acquirenti. Caratteristiche del contratto estimatorio. Il contratto estimatorio è un contratto unitario dove vi è il trasferimento della disponibilità di un bene contro il corrispettivo del prezzo o della restituzione dello stesso bene. È un contratto reale poiché si perfeziona con la consegna dei beni. La pattuizione di un termine per il pagamento o la restituzione dei beni è necessario. In difetto di tale pattuizione il termine viene stabilito dal giudice. Con il contratto estimatorio la Cipiens è legittimato a disporre dei beni. La proprietà dei beni resta al Tradens ma la disponibilità passa alla Cipiens. Vi è un'obbligazione facoltativa della Cipiens consistente o nel pagamento del prezzo o nella restituzione dei beni. La proprietà dei beni si trasmette al terzo nel momento in cui la Cipiens gli vende la cosa oppure alla Cipiens stesso nel momento in cui ne paga il prezzo al Tradens. Parliamo adesso della disciplina del contratto estimatorio. Il contratto estimatorio non è un contratto formale quindi non richiede la forma scritta ad substantiam né ad probazione. Il perfezionamento del contratto può aversi anche con una consegna simbolica della cosa purché questa sia messa effettivamente a disposizione della Cipiens. La disciplina del contratto estimatorio sostanzialmente prevede che ai sensi dell'articolo 1557 del codice civile i rischi per la perdita o il deterioramento delle cose ricadono sulla Cipiens che non è liberato dall'obbligo di pagarne il prezzo nemmeno se la perdita o il deterioramento hanno reso impossibile la restituzione della cosa per causa a lui non imputabile. Ai sensi dell'articolo 1558 durante il termine contrattuale la disponibilità delle cose spetta alla Cipiens ed è sottratta al Tradens. Ai sensi sempre dell'articolo 1558 fino al momento del pagamento del prezzo le cose non essendo ancora uscite dal patrimonio del Tradens restano a garanzia dei suoi creditori mentre nessuna pretesa sulle stesse possano avanzare i creditori della Cipiens. La risoluzione del contratto può essere chiesta dal Tradens qualora la Cipiens non abbia provveduto dopo la sentenza al pagamento del prezzo e dalla Cipiens quando la cosa oggetto del rapporto contrattuale risulti affetta da vizi. Parliamo adesso della somministrazione e la concessione di vendita, nozione e natura giuridica oggetto del contratto. Ai sensi dell'articolo 1559 del Codice Civile la somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga verso un corrispettivo di un prezzo a eseguire a favore dell'altra prestazioni periodiche o continuative di cose. Per prestazioni periodiche si intendono quelle prestazioni che si ripetono a distanza di tempo ed a scadenze determinate. Per prestazioni continuative si intendono quelle prestazioni che si protraggono nel tempo. La somministrazione è un contratto consensuale e si perfeziona appunto con il semplice consenso delle parti. La forma del contratto quindi è libera salva l'ipotesi in cui il contratto abbia ad oggetto beni immobili. L'oggetto del contratto può essere qualunque tipo di bene comprese le energie e i titoli di credito. La somministrazione può essere determinata secondo diverse modalità ovvero a piacere quando il somministrato può scegliere sia l'an che il quantum della prestazione. Secondo il fabbisogno con impegno di potenza quando il somministrante mette a disposizione un determinato quantitativo di cose che il somministrato può ritirare in base alle proprie esigenze. Oppure anche con determinazione di limite minimo o massimo della somministrazione è facoltà del somministrato di stabilire il quantitativo entro i limiti determinati. La disciplina. La disciplina del contratto di somministrazione è data dall'applicazione di due normative. Quella prevista appositamente per il contratto di somministrazione è quella propria dai contratti a cui corrispondono le singole prestazioni. Nella sostanza la somministrazione è disciplinata quindi da regole particolari e da regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni. Il contratto di somministrazione pur presentando una sua autonoma fisionomia ha contenuto generico relativamente alla natura delle prestazioni di cose che ne possono formare l'oggetto. Così ad esempio si applicherà la disciplina della vendita alla somministrazione di consumo, la disciplina della locazione alla somministrazione d'uso. Con riferimento alla normativa specifica della somministrazione è bene evidenziare che cosa? Che raramente viene determinata esattamente l'entità della fornitura della fornitura da somministrare. Se nulla viene determinato la fornitura si intende regolata dal fabbisogno del somministrato. Il prezzo della somministrazione viene corrisposto all'atto delle singole prestazioni nella prestazione periodica, alle scadenze d'uso nella prestazione continuativa. Ai sensi dell'articolo 1564 in caso di inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni l'altra può chiedere la risoluzione del contratto. Se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti. altra normativa peculiare è che ai sensi dell'articolo 1565 se il somministrato è inadempiente ma l'inadempimento è di lieve entità il somministrante non può sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso. La somministrazione può essere a termine o a tempo indeterminato. Se a tempo indeterminato è concessa a ciascuna delle parti la facoltà di recesso previo congruo preavviso. Parliamo ora del patto di preferenza. L'articolo 1566 disciplina il cosiddetto patto di preferenza ovvero quel patto con cui l'avente diritto alla somministrazione si obbliga a dare la preferenza somministrante nella stipulazione di un successivo contratto per lo stesso oggetto. Tale patto è valido purché la durata dell'obbligo non eccede il termine di cinque anni. Se è convenuto un termine maggiore questo si riduce a cinque anni. L'avente diritto alla somministrazione deve comunicare al somministrante le condizioni proposte gli dai terzi e il somministrante deve dichiarare sotto pena di decadenza nel termine stabilito se intende valersi del diritto di preferenza. Il patto di preferenza consiste al somministrante la possibilità di mantenere il rapporto di fornitura con il cliente. Esso rientra nell'ambito del contratto di prelazione convenzionale. Parliamo ora del patto di esclusiva. Gli articoli 1567 e 1568 del codice civile disciplinano il cosiddetto patto di esclusiva che può essere inserito nel contratto di somministrazione in favore di una delle parti o anche a favore di entrambi i contraenti. Se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante l'altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura né salvo patto contrario può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto. Se la clausola di esclusiva è pattuita a favore del somministrato il somministrante non può compiere nella zona per cui l'esclusiva è concessa e per la durata del contratto né direttamente né indirettamente prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto. L'avente diritto alla somministrazione risponde dei danni in caso di inadempimento a tale obbligo anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo che sia stato fissato. A differenza dei patti di preferenza le clausole di esclusiva operano durante lo svolgimento del rapporto contrattuale come un particolare atteggiamento del legame funzionale che coinvolge le due aziende. Non vi è quindi la possibilità di muoversi nel libero campo della concorrenza. Il patto di esclusiva è autonomo rispetto al contratto di somministrazione anche se allo stesso collegato o accessorio. Parliamo ora della concessione di vendita. Si ha concessione di vendita quando un soggetto detto concedente concede a un altro soggetto detto concessionario il potere di distribuire i propri prodotti dopo averli acquistati. La concessione di vendita è un contratto atipico nato dalla pratica commerciale e quindi non previsto direttamente dal codice civile o da altre disposizioni normative. Pertanto viene regolato dalle disposizioni di altre figure contrattuali tipizzate e compatibili. Si applicano per esempio le norme sulla somministrazione, quelle sul mandato e quelle relative al rapporto di agenzia. La concessione di vendita è nella sostanza un contratto di distribuzione finalizzato alla commercializzazione dei prodotti del concedente in un determinato territorio. Il concessionario acquista la proprietà della merce che rivende in nome per conto proprio con una posizione di privilegio nel territorio contrattualmente prefissato.